Le prime scientiste, tre delle quali con la Lode, arrivano dalla classe Quinta A del Liceo delle Scienze Umane del dirigente Maurizio Tedesco. La Lode è stata conseguita da Giuda Morana, Alessandra Delegrazia Catavodello e Desi Sibione. Fin da quando ero piccola sono sempre stata appassionata alle scienze umane, che spesso ancora oggi non vengono valorizzate perché non si comprende che studiano in modo scientifico l'essere umano. Quindi sono quelle discipline fondamentali per la vita di tutti i giorni. Ci permettono di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, quindi competenze sia che riguardano la comunicazione ma anche il sociale. Durante questi anni quali sono stati i momenti più difficili e i momenti più spensierati? Sicuramente le interrogazioni, l'ansia per le interrogazioni e poi anche l'ultimo periodo, certo l'esame, soprattutto perché usciamo anche da un periodo piuttosto difficile. Quindi anche i professori giustamente avevano molte difficoltà con questo nuovo esame, queste nuove modalità di svolgimento. Fortunatamente però ci hanno sempre messo al loro agio, sono sempre stati disponibili nei nostri confronti e quindi ci hanno permesso anche di svolgere serenamente questi esami. Nonostante le prime difficoltà, magari o incertezze dovute appunto al periodo di pandemia da cui usciamo e quindi la situazione non era anche delle migliori, siamo comunque riusciti a portare a termine questo obiettivo e penso meglio possibile appunto abbiamo concluso sia io che le mie compagne con un fantastico risultato. Com'è stato quando i professori ti hanno comunicato la Lode e in che modo te l'hanno comunicato? Allora, l'hanno comunicato attraverso il nostro portale, quindi della scuola. Inizialmente non ho voluto aprire subito appunto la notifica perché ero piuttosto emozionata dal solo pensiero. Sapevo però di aver fatto un buon esame sia perché ho concluso con gli applausi da parte dei professori, soprattutto con i complimenti, quindi sapevo di aver, soprattutto ero convinta perché avevo studiato molto. E poi inizialmente ho aperto quella notifica, sono andata a cercare il mio nome e ho visto poi 100 su 100 e Lode. In quel momento io sono scoppiata a piangere perché è stato un sogno, è stato veramente bellissimo. La Lode è per tre ragazze della stessa classe. Complimenti! Grazie, grazie. Infatti anche noi siamo emozionatissime, sinceramente non ce l'aspettavamo. Comunque il risultato è frutto di tanto impegno e costanza anche nello studio, partecipazione anche alle varie attività proposte dalla nostra scuola che comunque ci sono permesso di valorizzare anche il nostro bagaglio culturale. Proseguirà con gli studi in professioni sanitarie invece Chiara Lacognata, altra liceale centista che ha deciso di diventare locopedista. Ci sono stati momenti in cui ti sei sentita più scoraggiata, soprattutto durante la preparazione dell'esame? Durante la preparazione dell'esame un po' perché sono stata la prima di tutta la scuola ad affrontare l'esame, quindi non potevo avere magari l'appoggio delle mie compagne, però tutto sommato è andata abbastanza bene.